Arrivano in tanti, oltre 10.000 in Duomo, nel giorno in cui un anno fa moriva il cardinale Carlo Maria Martini. È la messa di suffragio con cui appunto la diocesi fa memoria di questo grande arcivescovo, in cattedrale, ma anche con celebrazioni in tutta la chiesa ambrosiana. Ed è un tributo di affetto corale, con l'emozione che adesso in questo primo anniversario si stempera in un fiducioso abbandono al Signore. Tra tanta gente semplice nota ci sono anche la sorella del cardinale Signora Maris, il nipote Giovanni. Sono presenti i rappresentanti delle istituzioni civili. Così sarebbe piaciuto al cardinal Martini, il cui sguardo appassionato per tutti gli uomini continua ad accendere una grande luce, la speranza che non delude. Dice con un velo di commozione il cardinale Scola, che presiede l'Eucarestia. Accanto a lui l'arcivescove Merito, il cardinale Tettamanzi, il cardinale Cocco Palmerio, 16 vescovi tra Lombardi e Ambrosiani, i vicari episcopali, oltre 200 sacerdoti concelebranti. Uomo di speranza Martini. L'arcivescovo Carlo Maria fu un indomito portatore di questa speranza affidabile, come la definisce con bellissimo aggettivo Benedetto XVI nella Spesaldi. Spelanza affidabile che deriva dalla fede incrollabile nella risurrezione di Gesù. In un mondo come l'attuale, popolato da uomini e donne, con il cuore inquieto, la dimensione contemplativa della vita, come si intitolava la prima lettera pastorale martiniana, lo ricorda l'arcivescovo, è insegnamento per sempre. Per questo la ricca complessità della sua persona e del suo insegnamento non cessano, come voi testimoniate, di interrogare uomini e donne di ogni condizione. In questa prospettiva va letto l'intero generosissimo episcopato del Cardinale Martini, che fu sulla catedra di Ambrogio e Carlo dal 1980 al 2002. Questo insegnamento, riletto ora, riletto questa sera, alla fine del suo pellegrinaggio terreno, esprime bene il centro, il cuore della sua personalità, che noi tanto amiamo, della sua testimonianza di vita, della sua azione pastorale, della sua passione civile e, non ultimo, dell'indomito tentativo di indagare per quanto possibile gli interrogativi brucianti dell'uomo di oggi. Infine, la processione e la preghiera alla sepoltura del Cardinale, con la gente che sembra non voler lasciare mai il Duomo. Il Cardinale Scola ha detto alla base di questa poliedrica figura straordinaria c'era la dimensione contemplativa della vita, la preghiera costante, l'ascesi. Come nipote sentiva questo lei? A me piace che il Cardinale Martini venga ricordato più che come un uomo di chiesa, come un uomo di Dio. E un uomo di Dio necessariamente è legato a Dio con la preghiera e questo era presentissimo nella sua vita di tutti i giorni, da come pregava, come si concentrava durante la messa, anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane in cui faceva molta fatica, proprio si vedeva una concentrazione in cui lo vedeva Gesù nell'Eucaristia, proprio sembrava che lo vedesse. Quindi ha sempre vissuto questa dimensione contemplativa, ma da buon gesuita contemplativo nell'azione, per cui poi si parte dalla contemplazione ma poi si agisce. Anche Papa Francesco ha voluto dire parole magnifiche. Gesuita a Gesuita. A ieri sì, appunto abbiamo avuto questo meraviglioso incontro con Papa Francesco che già lo vedevamo in televisione spontaneo, ma vederlo dal vivo è ancora più affettuoso, ancora più spontaneo, ancora più tenero, posso dirlo, questo per termine di un Papa, perché è così che credo che gli piacerebbe essere definito. E appunto parlava di un suo collega gesuita citando un episodio del 74, quindi assolutamente in tempi in cui tutti e due erano due gesuiti non famosi, poi uno è diventato arcivesco di Milano, l'altro è diventato arcivesco di Roma, è incredibile appunto come già da allora si fossero trovati d'accordo su tante cose, appunto il Papa parlava esattamente in quegli anni, il tema della giustizia sociale sembrava una roba da marziali, adesso è la base della pastorale della Chiesa, per cui è bello come l'abbia ricordato dopo 40 anni da quegli episodi con affetto proprio.